Ben a tutti ragazzi sono Scri68 e siamo qui in un nuovo video oggi vi farò vedere come fare un video per un war per municipi livello 9 prima di lasciarvi il video vi chiedo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto una condivisione, tanti like e commentate il video e niente, vi lascio il video, bella! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!